Ciao, io sono Ignazio, membro del comitato La Puglia non si avvelena, comitato che rappresenta la voce di coloro che ripudiano l'arroganza di chi inquina e la generale insensibilità verso i bisogni umani e ambientali. Nell'aprile 2021 la Regione Puglia ha emanato il nuovo piano di azione per contrastare la diffusione di xylella e questa volta ha reincarato le dosi di utilizzo di pesticidi ed erbicidi, tutte molecole killer che finiscono nell'aria che respiriamo, nell'acqua che beviamo e nel suolo, la base della nostra alimentazione. A nulla sono servite le lettere di richiesta di incontro per avere un confronto con alcuni assessori e il Presidente della Regione Puglia. Abbiamo pertanto deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, il TAM, dove sarà un giudice ad esprimersi a riguardo. Sapere che anche tu supporti questa causa non ci fa sentire soli in questa impresa. Fallo per tutti noi, perché sono le nostre vite e la biodiversità ad essere a rischio e ciò che è peggio è il mondo dei nostri figli e dei nostri nipoti a venire distrutto. Dona ora. Grazie. Grazie a tutti.